Siamo veramente emozionati di averti qui oggi con noi. L'unione della coraggio, dell'azione coraggiosa, della razionalità e della creatività con il cuore è quello che deve essere l'obiettivo finale di ciascuno di voi, non solo nel lavoro ma soprattutto nella vostra vita. L'importanza del team non va mai sottovalutata e più grande il team più difficile è mantenere la coerenza ma questo è fondamentale, quindi lavorate insieme ragazzi.